È un piacere partecipare, dare questo piccolo contributo che poi in fondo si tratta di poca cosa. È il segno del collegamento della banca con il territorio. La banca ci tiene molto al territorio, è una banca territoriale e quindi ci tiene alle risorse del territorio. Speriamo di poter collaborare ancora una volta con l'ospedale e con tutte le istituzioni del territorio. Noi quest'anno abbiamo anche dato un contributo importante per un ospedale da campo a Norcia, abbiamo fatto un intervento importante. Adesso speriamo di poter continuare su questa strada, sperando che si riprenda un po' anche l'economia e il mercato e quindi la banca possa intervenire sempre in maniera più importante.